Benvenuto in un nuovo capitolo della tua impresa. Immagina un ambiente in cui la tecnologia lavora a tuo favore, dove i processi sono agili e la tua azienda è in grado di anticipare le esigenze del mercato. Oggi puoi contare sul punto impresa digitale della tua camera di commercio per avviare il percorso di transizione digitale sostenibile grazie ai servizi di formazione, assessment, mentoring, orientamento e ai contributi economici. I punti impresa digitale sono sparsi su tutto il territorio nazionale e guidano la tua impresa tra le due transizioni che stanno definendo il futuro. La transizione digitale e la transizione sostenibile. Illumina il futuro della tua impresa grazie alle risorse e all'esperienza dei punti impresa digitale. Rendi la tua azienda protagonista di questo cambiamento e immagina un percorso dove la tua impresa non solo non si ferma, ma cresce. Valuta il tuo livello di digitalizzazione e scopri le principali tecnologie avanzate come blockchain, intelligenza artificiale e realtà virtuale, cloud e big data per migliorare la tua offerta di prodotti e servizi. Sii aperto a nuove idee e adotta una mentalità di apprendimento continuo grazie a un'assistenza one-to-one e a una formazione esperienziale in cui puoi testare le tecnologie prima di utilizzarle. La digitalizzazione è il terreno fertile del progresso. I punti impresa digitale ti supportano nell'individuazione delle priorità di intervento e delle possibili soluzioni tecnologiche per un continuo miglioramento delle performance di sostenibilità in ambito ambientale, sociale e di governance. Ottimizzare i processi aziendali è fondamentale per valorizzare il potenziale del capitale umano, riducendo i tempi e i costi di produzione. Una forza lavoro digitalmente competente è fondamentale per il successo della transizione digitale sostenibile. Investi in soluzioni di sicurezza avanzate per garantire la protezione dei tuoi dati e la fiducia dei clienti, supportato dall'intelligenza artificiale e da una robusta cyber security. Con il potere della digitalizzazione il mondo diventa il tuo mercato. sfrutta le potenzialità delle reti sociali e della presenza online per portare la tua impresa a nuove vette di efficienza e verso nuovi mercati, clienti e opportunità. Il punto impresa digitale rende la tua impresa all'avanguardia, non solo digitale. I fondamentale del nord per il nostro corso di servizio dell'indica internazavezza e dell'indica immensa di sicurezza alle treze.